Eccoci qui terzo e ultimo blocco di Sette in Punto per questa mattinata e ora vi presento la nostra terza ospite Angela Biggi, ciao non riesco a darle del lei perché è anche una collega, nonché presidente di Città delle Mamme Padova, poi ideatrice di questa iniziativa Cine Mamme che è nata qui però poi è diventata famosa un po' in tutto il mondo, sicuramente però in tutto il territorio nazionale, qualcuno penso vi abbia anche copiato, si può dire? Sì si può dire ma nel senso positivo perché noi siamo molto fieri di questo, allora diciamo che l'inizio inizio inizio è stato negli Stati Uniti e in Europa del Nord dove sono un po' più avanti di noi nella neogenitorialità, poi un'associazione di Roma l'ha portato a Roma cinque anni fa e siccome sono delle amiche allora abbiamo fatto rete e abbiamo detto ma l'avete fatto voi lo facciamo anche noi. Raccontiamo che cos'è Cine Mamme? Cine Mamme è la possibilità di andare al cinema quando si hanno dei bambini molto piccoli in età d'allattamento e la mattina, quindi senza doverli lasciare a casa con le babysitter, con i nonni, farsi prendere dai complessi di colpa perché si ha voglia di uscire e di andare a vedere un film, è l'occasione per portarli con sé e godersi un po' di tempo libero ma insieme a loro. Quindi se il bambino è di fianco alla mamma, se il bambino piange non c'è problema, non è di fianco alla mamma? No, no, è di fianco alla mamma ma non piange. Ah, non piange? No, abbiamo visto, anche questa era una piccola preoccupazione all'inizio quando non sapevamo come funzionava. Allora, la sala cinematografica è accogliente perché c'è la luce soffusa, il volume è un po' più basso del normale, quindi non disturba i bambini. Ah, quindi insomma è tutto studiato. È tutto molto studiato e ci sono due fattori, secondo noi, dall'esperienza che abbiamo avuto che entrano in campo e che ci fanno vedere che i bambini non piangono. Il primo è che le mamme quando entrano in sala si rilassano e quindi le sentono proprio respirare tranquille e questo credo che i bimbi lo sentano. La seconda cosa è che probabilmente questo ambiente ovattato con un rumore di fondo non forte probabilmente gli fa anche sentire bene loro. In qualche modo insomma li porta a rilassarsi? Sì, alla tranquillità. In tutte queste edizioni, in questi anni che abbiamo fatto cinema con le mamme e i bambini piccoli, credo che nessuna si sia alzata perché il bambino piangeva. Al massimo si alzano per cambiarli perché c'è il fasciatoio lì vicino, ma non perché sono stanchi e vogliono e piangono insomma. Quindi insomma questa è una garanzia, se portano i vostri bambini e le mamme per un po' non piangono, perlomeno durante la proiezione. Poi tra l'altro i costi insomma sono ridotti? Allora noi cerchiamo di unire due cose, la prima è l'attenzione verso le famiglie e quindi abbiamo un costo ridotto, il biglietto è ridotto proprio al cinema. Quindi sono 5,50 euro per la proiezione e che comprende poi anche un incontro con una persona esperta che racconta o spiega cose che possono essere utili per i neogenitori. Allattamento, interazione tra bambini e genitori, sto leggendo naturalmente il vostro comunicato stampa. Gioco, sonno, movimento insomma. Sì, le allergie piuttosto che lo svezzamento, insomma varie cose. Una dei must comunque è quella del sonno, che abbiamo visto che se lo riproponiamo ogni edizione fa sempre piacere. Invece le pellicole come le scegliete? Grazie per la domanda, perché se no mi dimenticavo di dirlo, ma secondo me è essenziale. Sono in prima visione. Allora, non è un cineforum, sono i film che proiettano in quel momento nella sala cinematografica Porto Astra e anche Multisala Pio Decimo e che quindi non si avrebbe l'occasione di andare a vedere, non sono quelle che sono state proiettate quattro anni fa che magari avevamo anche visto. Sono i film di prima visione. Noi facciamo una scelta su pellicole che abbiano, sì, che non siano di guerra o che non siano tragiche perché non vogliamo far perdere il latte alle mamme, naturalmente. O farle piangere. O farle piangere. Abbiamo visto che piangono già solo per un sacco, anche quando sono contenti. No, sono film rilassanti, carini e che di solito, insomma, mettono di buon umore. E le mamme come arrivano? Arrivano magari con l'amica, anche da sole? Dunque, a volte arrivano con le amiche, altre volte vengono la prima volta da sole e poi passano parola e tornano con delle altre persone che conoscono. A volte anche con la loro mamma, quindi ci sono delle nonne, a volte ci sono i papà. Però quello che abbiamo visto è che si creano dei gruppi o comunque delle conoscenze per cui si danno appuntamento di volta in volta per la volta successiva. Ecco, ma quest'idea, insomma, prima parlavamo anche con la dottoressa Dallabarba, della condivisione. Quindi voi, insomma, avete testato sul campo che effettivamente funziona, insomma. È una cosa di cui c'è bisogno. Infatti, diciamo che questa iniziativa, come il Mamme Caffè in Feltrinelli che stiamo facendo contemporaneamente, parte da un bisogno effettivo e reale, cioè che è quello delle persone, delle mamme, delle donne che hanno appena avuto un bambino che per un motivo o per l'altro fanno fatica ad uscire di casa e quindi molto spesso si sentono sole. Invece, con questo genere di cose che le aiuta ad uscire e a trovare altre mamme nella loro condizione particolare del momento che stanno vivendo, le aiuta sicuramente a condividere e quindi a relativizzare molti problemi. Quindi nascono anche delle nuove amici. Sì, sì, abbiamo visto anche questo. E poi, insomma, questo diciamo che è rivolto a una fascia precisa, no? Quella delle, sì, diciamo dalle donne che sono in attesa perché cominciano ad arrivare anche quando magari sono la settimo, ottavo mese, quindi vanno in maternità. In maternità, esatto, cominciano a venire anche loro, poi fino alle mamme che hanno bimbi diciamo 12-14 mesi, poi cominciano a camminare, quindi sono meno tranquilli e quindi anche le mamme possono stare meno tranquille al cinema. E anche gli altri, anche i telespettatori, quindi insomma, questo momento di relax, quindi è giusto che insomma sia... Sì, quando hai bambini in braccio. ...che si è rivolta a una fascia determinata. E quando vi è venuto, insomma, ti è venuta l'idea perché ci raccontavi che c'erano queste amiche che te l'hanno fatta conoscere, queste amiche, insomma, romane? A dire verità loro sono straniere, nel senso che sono mogli di amici che sono state catapultate in Italia, a Roma, nella fattispecie, e quindi hanno portato la loro conoscenza del nord Europa, una era tedesca, un'altra amica era americana e avevano visto queste cose e quindi le hanno portate qui in Italia. Ma poi, cioè, voglio dire, dall'idea, uno può dire una bella idea, dall'idea alla realizzazione, insomma, visto che funziona questa cosa, che cosa c'è stato? Allora, c'è stato, innanzitutto, diciamo, il vissuto personale. Perché, insomma, è mamma, non lo so tra le altre cose. Sì, esatto, sono madri, due figlie, ormai quasi adolescenti. E questa è un'altra questione. Farò qualcosa per le mamme di adolescenti perché comincio a preoccuparmi a fare degli scherzi. Allora, il vissuto era questo, ma che si può appunto condividere con tutte, credo. Una delle prime cose che si dice quando hai appena avuto un bimbo è, vorrei tanto andare al cinema, mi manca il cinema. E allora, su questa base del vissuto, più le amiche che mi hanno detto, ma guarda che si può fare, cioè è facile, la storia è stata che ho telefonato a Luca Proto del Porto Astra, che non conoscevo assolutamente, gli ho detto, buongiorno, guardi, io avrei questa idea, lei cosa ne pensa? Ho detto, sì, domani, facciamola subito. Anche lui è padre, quindi probabilmente aveva questa esperienza di base. E poi c'è stata anche un'altra cosa che ci ha molto aiutato. L'Agis, Marco Sartore dell'Agis delle Tre Venezze, padre anche lui di quattro figli, ci ha veramente supportato in questa cosa. Tra l'altro, e mi aggancio al discorso iniziale, ci ha portato a Udine, a Trento, adesso andremo a Bolzano, perché tramite l'Agis, che ci dà questo supporto anche nell'ufficio stampa, quindi ci fa conoscere, e questo c'è utile per le aziende che collaborano con noi, che ci supportano a livello economico. Sì, perché poi si tratta anche di un'attività... Allora, diciamo che... Allora, noi siamo un'associazione senza scopo di lucro, e quindi non ci guadagniamo in questo. Però dobbiamo coprire le spese. E quindi cerchiamo sempre di avere delle aziende che ci supportino, e finora le abbiamo trovate per fortuna, anche se il periodo non è semplicissimo, si fa fatica effettivamente. Però, tra le sale amiche, quest'anno l'MPX, multisala Pio X, zona Duomo, ha aderito all'iniziativa, per cui dopo il Porto Asta ci sarà anche l'opportunità di andare al cinema da loro. Quindi si allarga un po' il circuito, e questo fa bene sia a noi che alle aziende che ci supportano. Riuscite a capire che mamme sono queste? Magari rispetto, non so, anche solo a qualche anno fa, se sono magari più preoccupate, se sono più disinvolte, se hanno bisogno magari di più supporto? Sono prevalentemente mamme di prima esperienza, quindi giovani, ma non solo. Vengono anche le mamme che hanno dei figli più grandi, quindi diciamo che hanno bisogno sì di supporto e di sicurezza, ma credo che il primo bisogno sia proprio quello della condivisione, quello di incontrare altre persone e di uscire di casa, e di fare qualcosa anche per sé. Per sé, certo. Immagino che tu sia anche un'appassionata di... Di cinema. Di cinema. È vero. E insomma, prima hai citato Raul Bova, prima mentre non eravamo in onda, quando è che si potrà... Oggi possiamo condividere Raul Bova al Porto Astra, perché proiettiamo il film dove lui è protagonista, che fa il papà, che ritrova una figlia già cresciuta nel suo caso. Buongiorno papà. Certo, insomma, quindi è già un piacere anche per... Sì, è un piacere anche quello. Anche per gli occhi, tra le altre cose. Tu citavi prima anche Mamma Caffè. Mamma... Mamma e Caffè, Mamma Caffè, è uguale. Che è, insomma, un binario parallelo, possiamo dire. Raccontarci di cosa si tratta. Allora, come Città delle Mamme, la nostra associazione che si preoccupa più che si occupa della neogenitorialità, ma poi non solo, insomma, si è data come obiettivo quello di, appunto, la condivisione, far uscire di casa, ma in modo leggero. Quindi quello che cerchiamo di fare attraverso Cinemamme o il Mamme Caffè in Feltrinelli è quello di far riappropriare di alcune passioni le donne che hanno appena avuto dei bambini o comunque le loro famiglie, non solamente le donne, naturalmente. Quindi, uno, è stata l'idea di andare al cinema, due, di tornare in libreria. Noi facciamo gli incontri ogni giovedì mattina alle dieci e mezzo, appunto, ieri c'era la dottoressa Dalla Barba che ha fatto il pienone, ma è stata veramente una bella partecipazione. Un'ora e tre quarti sono rimaste le mamme con i bambini ad ascoltare e poi a fare domande. Quindi c'è questa, insomma, voglia di confronto. C'è una voglia di confronto, ma anche di probabilmente fugare dei dubbi che poi non sono particolari, cioè sono quelli che hanno tutte quante. Magari anche avere semplicemente delle conferme. Sì, sì, che sei brava, che comunque sei brava e che ce la farai, che non devi preoccuparti. Come ha detto prima anche a noi la dottoressa. E tra i prossimi appuntamenti, adesso qui insomma io sottomano l'elenco. Grazie, perché io non me lo ricordo a memoria. Giovedì 28 marzo, Manuela Narcisi, psicoterapeuta, fiore di bacche per mamme e bambini. Il giovedì dopo, il 4 aprile, Alberto Fassina, che è un critico cinematografico. Che è un critico, e noi lo colleghiamo naturalmente al Cinemamme, che verrà a parlare in libreria di film, e quindi speriamo che anche questo sia un argomento che piace. Terapia naturale per i bimbi, insomma adesso non dico le date, poi se volete c'è naturalmente il sito. Sul sito cinemamme.net c'è tutto il programma, sia dei film che degli incontri in libreria. Terapia naturale, crescere un figlio, educare con amore e con fermezza, fate la nanna con dolcezza. Con dolcezza, esatto, sottolineiamo questo. Insomma c'è questo famoso libro che molti vorrebbero. Hanno provato, ma qualcuno magari si è anche trovato bene, non discuto. Però noi preferiamo un approccio un po' più morbido. Ecco, nella tua esperienza invece di mamma, prima abbiamo anche chiacchierato con la dottoressa, abbiamo cercato di dare qualche consiglio, di far capire che appunto non è giusto sentirsi inadeguate. Se c'è qualcosa che anche tu ti senti di dire, insomma rispetto appunto al tuo vissuto. Al mio vissuto. Allora sicuramente ci si sente dubbiosi. Magari c'è chi ha un ego più forte, quindi è più sicuro di sé, chi meno, però i dubbi vengono sicuramente. Quindi parlare con le altre mamme è confortante. Poi c'è chi ha l'esperienza della suocera o della propria mamma che dà dei consigli oppure qualcosa di più di un consiglio. Diciamo che nessuno è perfetto e quindi è tutto un lavoro, un work in progress e si impara un po' alla volta. Dal mio punto di vista di madre, di donna, che si è anche confrontata con un po' di resto del mondo, ma vorrei sottolineare anche di moglie, perché è importante quando hai un compagno a fianco. è che più inadeguato ti senti, più difficile diventa il rapporto anche con tuo figlio, perché probabilmente gli trasmetti un'insicurezza e quindi un'ansia che non è giusto trasmettergli. Quindi molto spesso, non dico questi incontri, ma la telefonata all'amica o comunque la passeggiata al parco dove incontri altre persone, può essere utile proprio per stemperare questo senso di inadeguatezza, di ansia, ma da non trasmettere ai figli. Ecco, quello che io mi sento di consigliare, tra virgolette, o di proporre, è proprio questo, cioè parlate perché è la cosa migliore, non tenete dentro, parlatene e ci si tranquillizza. Poi ci piaceva molto questo concetto di darsi del tempo. Mi viene in mente anche una cosa, magari se ci si concede una serata, può anche essere una o due ore con le amiche o l'amica del cuore, magari evitare di fare dieci telefonate, cioè concedersi veramente quel tempo. Buttare via il cellulare, cosa che non è possibile. Perché insomma i bambini, anche se sono piccoli o anche più grandi, possono benissimo stare. Possono sopravvivere con il papà, con i nonni, con eventuali babysitter, sì. Io quasi, quasi veramente direi spegnete il telefono, perché così sapete che non siete rintracciabili e che gli altri faranno tutto al meglio, anche senza di voi. È un'abitudine che bisogna prendere, perché anche questo è importante. Sentirsi utili è giusto, sentirsi indispensabili, carica di ulteriori, dal mio punto di vista, di ulteriori responsabilità, tra virgolette. E non è giusto prendersene tutte, bisogna farsi aiutare. Ma rispetto anche al discorso del tempo, per esempio del rientro al lavoro, tu come hai vissuto con questo passaggio, per esempio? Allora, tu sei una collega, quindi puoi capirmi. Allora, io sono una libera professionista e lo ero quando ero incinta, ho lavorato fino al nono mese in un ufficio stampa, dove c'erano uomini. E non era facile far comprendere le cose. Io sono tornata al lavoro subito dopo e stavo allattando, e mi ricorderò sempre, ma questa è una mia esperienza personale, spero di poterla condividere in senso positivo, che c'era il mio capo dell'epoca, che mi vedeva con il latte che sgorgava da tutte le parti, perché per fortuna ne avevo, e mi diceva, adesso cosa vuoi fare? E mia mamma che mi telefonava con la bambina, diceva, guarda che ha fame, devi venire. E lui mi guardava malissimo, perché toglievo tempo alla professione, all'azienda, diciamo così. Non è stata un'esperienza facile, quindi. Io credo però che da dieci anni fa, adesso, le cose stiano cambiando, per fortuna. C'è una maggiore sensibilità, anche da parte dei datori di lavoro, degli uomini, perché condividono di più con le proprie compagne. Credo che le cose stiano cambiando. E forse anche a volte le donne continuano a sentirsi in colpa, anche non solo quando rientrano al lavoro, nei confronti dei bambini, ma magari nei confronti anche dei colleghi, piuttosto che... Forse anche questo, insomma, andrebbe rivisto, no? Andrebbe molto rivisto. Ma io spero che con la maggiore frequentazione dei padri, nei confronti dei figli piccoli, ci sarà, adesso probabilmente è ancora presto, ma ci sarà un cambiamento anche nell'ambiente di lavoro. Ecco, rispetto invece, per chiudere alle vostre iniziative, insomma, auguriamo un futuro... Un futuro di successo. ...rosio a Cinemamme. Però, insomma, mi raccontavi che ci sono già mamme che sono uscite da questa fascia che vorrebbero qualcosa per loro, perché poi anche rispetto a quello che si trova sul territorio, dai primi momenti in cui magari si sente anche la vicinanza... Di tutti, certo. Di tutti. Poi arriva una fase in cui comunque, come dicevamo anche prima, ci si sente più soli. In quel momento forse si ha ancora più bisogno di condividere. Sì, allora, questo genere di iniziativa che noi facciamo in ambito poi molto culturale, se vuoi, non ospedale, non psicologico, ma più culturale, leggero, credo, noi speriamo che siano utili. Poi sul territorio, per fortuna, si stanno creando altre opportunità, per cui le mamme non saranno più sole. Dopo il momento cicogna, ci sarà quello appunto del postparto. Un'altra cosa però, che penso che sia utile... 10 secondi? per tutte. Vi dico, uscite, condividete e parlate. Uscite e parlate. Esatto. Grazie ad Angela Bigi e grazie a voi per averci seguito. Poi ci saranno tutti i nostri appuntamenti, a partire naturalmente da le 12.40, più o meno. A più tardi. a poi. A più tardi. Aplosci di